Ok, benvenuti, vediamo come fare una light mapping l'altra volta l'abbiamo fatta con un semplice cubo e ora vediamo come esportare da un lender una cosa molto semplice, una casetta e vediamo che ci sono alcune cosucce che è utile che facciate attenzione quando fate l'export ora io in questo caso ho fatto una casa semplicemente con gli inset, vedete ho fatto un inset per fare il tetto ho fatto un inset per fare poi tutta la casetta di sotto e poi attraverso un modificatore di boolean ho fatto sostanzialmente la porta ho preso un altro cubo un po' più piccolo gli ho fatto l'intersezione e ho ottenuto quindi questa porta e una cosa analoga ho fatto per la finestra una finestrina fatta così giusto per fare qualcosa di semplice poi ho provato a esportare e in FBX è una cosa brutta ho scoperto che in realtà facendo queste cose vengono degli n-gons quindi ho fatto ctrl-t praticamente facendo qua andando qua posso fare ctrl-t, ctrl-t e triangulate faces e elimina gli n-gons e quindi sono riuscito a esportare in formato FBX la texture adesso questa è solo una prova stupida l'ho fatta con Stable Diffusion con un sito web con una tileable texture ma non è importante vi ho messo praticamente una singola texture ho fatto ricordate che ho fatto una wimap per poter mettere queste texture ma questo è ovvio, scontato e poi mi sono assicurato che questo oggetto FBX una volta esportato fosse visibile dal visualizzatore 3D che è disponibile in Windows normale quindi avendo visto che questa casetta si vede infatti è qui che mi sono accorto che i buchi non erano fatti bene e quindi c'erano questi n-gons le texture c'erano quindi vedendolo con il visualizzatore 3D si vedono le texture e tutto e a questo punto cosa facciamo? andiamo in Spatial in Spatial ho importato l'oggetto adesso vi farò vedere il risultato finale quindi praticamente ecco, vedete che ho importato l'oggetto e ho fatto un lightning un lightning di che cosa? del sole quindi un baking della lightning della luce vedete che il sole praticamente è stato beccato quindi è stato cucinato pre-cucinato e ha prodotto automaticamente queste luci adesso qui in questo caso il sole magari rigenera anche come mixed ma questa luce interna è fondamentalmente ottenuta con un baked interno come vedete il risultato è più o meno quello del video del di che abbiamo fatto quindi della registrazione dell'incontro che abbiamo fatto l'altra volta quindi vedete che è abbastanza angolato il sole e quindi è venuta questa immagine qua molto realistica ma in realtà l'ombra è fatta è pre-beccata pre-compilata praticamente dentro quindi queste ombre pre-compilate che sono quelle che è stato fatto da Marco adesso vediamo come come si riusciamo a ottenerle con con Unity e poi con Spasher ok quindi torniamo a Unity quindi Unity è questo dobbiamo importare prima di tutto il nostro la nostra casa adesso facciamo proviamo tentiamo di fare insomma di rifarlo da capo quindi cancelliamo il nostro import che ho fatto precedentemente ok quindi cancello questa che è la casa quindi si deve re-importare tutti gli assets vedete che va via anche la casa cancelliamo il concrete che ho fatto qua questo nuovo materiale che ho chiamato concrete quindi lo togliamo via e riproviamo a farlo da zero qui tra l'altro le luci light mapping che però lo ricalcoleremo da zero vedete che sostanzialmente prima nella versione precedente lui ha effettivamente messo le luci e l'illuminazione che adesso in questo momento non ha senso ma adesso andremo a re-importare di nuovo la nostra casa quindi dai nostri downloads andiamo a vedere la casa anzi anzi no l'avevamo vista qua vediamo casa lightning fbx quindi la importiamo la mettiamo sotto pacchio giusto per evitare di confonderla con il lightning quindi sotto pacchio abbiamo la nostra casa e quando abbiamo la nostra casa ci accertiamo nell'inspector in questa casa vedete che in questo caso non ha la texture quindi dobbiamo fondamentalmente la proviamo a mettere dentro la nostra scena vedete che fortunatamente è anche nella direzione giusta la mettiamo in modo tale che sia più o meno coerente quindi abbiamo la porta e la finestra vedete leggermente un po' più su ok e la cosa che avete già notato è che manca la texture quindi andiamo alla nostra casa che abbiamo importato vedete che verde quindi sta prendendo questa la facciamo così così vediamo casa lightning e togliamo la precedente che abbiamo e prendiamo teniamo questa casa lightning e questa casa lightning andiamo a controllarla quella negli assets e vediamo che i materials non sono a posto quindi perché non sono a posto perché qui non c'è materials allora noi intanto proviamo a fare io ho fatto extract texture ma proviamo a fare extract materials così ci dice dove estrarre i materials e noi li estraiamo qui sotto assets pacchio quindi a questo punto lui ci ha estraiato un material 0,1 che però non è propriamente quello che ci interessava quindi torniamo nel non ha la texture che avevamo fatto noi quindi facciamo l'extract textures estraiamo sempre lì vediamo che facendo l'extract texture è comparso la texture concrete quindi andiamo sul material che magari chiamiamo concrete concrete in inglese vuol dire insomma quella cosa che si mette sui muri quindi i muri delle case e dentro questo concrete qua dentro la base map ci mettiamo qua dentro ci mettiamo appunto la texture che c'era in blender in questo modo abbiamo ricomposto le texture originali ora se notate abbiamo anche una luce che è questa point light questa la mettiamo la creiamo questo point light e ci accertiamo che questo point light sia baked ok perfetto la mettiamo dentro la mettiamo dentro la la nostra la nostra casa e ci accertiamo che la nostra casa sia static quindi la luce è ecco qua vediamo un po' se riusciamo a renderla quindi questa luce che è questo point tra l'altro possiamo provare a metterla a real time per fare illuminare ecco mi ero dimenticato una cosa fondamentale quando importate quindi quando faccio il caso lighting vi accertate non soltanto che la texture sia a posto ma andate a vedere sui materials sul modello andate a verificare che ci sia generate light maps ora facendo generate light maps faccio un apply ok quindi a questo punto avete effettivamente la che è in grado di ricevere la luce mettetela anche static così riceve luce statica ecco Unity ha un po' di bacchetti in questo caso la luce precedente non faceva non proiettava luce però ricreandolo la luce vedete che si ottiene praticamente che la luce fa effettivamente un'illuminazione con la risfuzione precedente sul piano 3 dovrebbe farlo anche sul sulle pareti di questa di questa casa che vi ho messo quindi dobbiamo vedere questa perché non lo fa è static ecco accertatevi che effettivamente la luce produca in quanto luce mettiamo anche baked che faccia la luce giusta anche sulla nostra sulla nostra praticamente mesh e dovete importarla per vederla perché per qualche motivo non me la faceva vedere e vedete che produce praticamente una una luce qua in alto una volta che avete messo la luce l'avete messa in modalità baked e avete messo che questa casa che abbiamo importato è diventata static ricordatevi mettere la static possiamo procedere sicuramente a fare la lightning lighting map ora per fare la lighting map andiamo sulla solita cartella lighting dove ci sono i lighting settings e facciamo un generate lighting ora facendo il generate lighting settings dovrei impiegarci un pochino però vedete che questa luce produce questo suo effetto è fatto tutto la luce produce un effetto minimo però lo produce in alto questa cosa dentro quindi a questo punto andiamo a vedere salviamo la scena andiamo in qua andiamo in issues verifichiamo che la scena sia giusta accertiamoci che la scena sia quella giusta just plain light vedete light light quindi questa è la scena che stiamo cercando di deployare quindi noi abbiamo a questo punto il andiamo dentro light abbiamo praticamente il qui possiamo vederlo vederlo per intero ci vede pochetto però il concetto è che dovrebbe esserci la luce quindi la rifacciamo un secondo quindi lighting andiamo sul generate lighting mentre si fa il generate lighting si dovrebbe vedere il meccanismo con cui fa la luce quindi a questo punto se tutto è andato a posto dovremmo poter fare un test quindi facciamo test active scene rifatta la compilazione della scena e qui la scena precedente la cancelliamo e proviamo a vedere cosa ho visto ok quindi qua siamo noi nella scena ci possiamo muovere vedete ok siamo già dentro e vedete che questa volta il la luce è effettivamente giusta adesso mi cade perché probabilmente sono uscito ottimo piano però il concetto è quello quindi abbiamo abbiamo il nostro avatar le nostre luci sono beccate tutte giuste ricordiamoci sempre di ecco vedete che qui sto per cadere quindi quindi questo è quanto per luci baked in questo modo ecco ultima cosa se torniamo nel nostro unity quando vediamo il baking della nostra casa possiamo controllare da qualche parte c'è quindi il baked leg maps che sono questa questa probabilmente è la luce che abbiamo appena beccato questa quindi possiamo vedere che questa è presente sotto pacchio light ecco possiamo controllare che abbiamo praticamente qua le light maps vedete che sono 2 megabyte di light maps quindi stiamo usando un po' di memoria per illuminazioni e poi la casa lighting che abbiamo preso questa nell'inspector sembra che abbia scritto da qualche parte il dove deve mettere light forse lo dobbiamo vedere qua ok ecco lighting light maps civil global illumination ecco qui c'è praticamente i parametri in cui lui prende la light e dovrebbe dire da qualche parte anche dove il su quale canale delle UV ha messo praticamente la light un attimo ecco appunto l'unica cosa che volevo dire è che a parte che adesso non lo vedo più ma il default il canale 1 2 su cui mettere la lighting map non è un qualche cosa di fondamentale è una cosa accessoria tecnica che usa lui talmente e quindi voi seguendo più o meno le direttive di questo video siete in grado di creare delle light map decenti per almeno per delle ombre o delle illuminazioni locali va bene allora è tutto per questo video buona serata alla prossima la prossima è